cari amici di regina della pace la gioia dei santi dimuri sempre dei vostri cuori oggi 6 marzo la chiesa celebra la memoria di santa rosa da viterbo rosa nacque a viterbo nel 1233 da giovanni e caterina desiderava entrare nelle clarisse che la respinsero a causa della sua salute precaria dopo una guarigione miracolosa entrò nel terzo ordine francescano secondo la spiritualità di san francesco d'assisi visse la misericordia nell'opera di riconciliazione tra persone e famiglie predicò accanitamente contro i catari aizzati da federico ii contro contro il papa e prese una forte posizione in difesa del pontefice nella lotta tra guelfi e ghibellini fu mandato in esilio con la sua famiglia per ordine del podestà di viterbo e si rifugiò poi a vitorchiano in un' occasione rimase miracolosamente in colume tra le fiamme predisse la morte dell'imperatore federico secondo e quando questa avvenne tornò a viterbo l'anno successivo nel 1251 rosa da viterbo morì all'età di soli 17 anni in seguito alla venuta di papa alessandro iv il corpo fu riesumato dal cimitero della chiesa di santa maria in poggio miracolosamente incorrotto fu trasportato nella chiesa di san damiano oggi santuario di santa rosa da allora questa traslazione viene ricordata con il trasporto della macchina di santa rosa rosa venne canonizzata da papa callisto terzo nel 1457 bene carissimi oggi terminiamo qui il nostro appuntamento pace gioia a voi